La quotidianità In un mondo disegnato completamente dall'intelligenza artificiale globale, le era difficile riconoscere un qualcosa di genuino a causa degli occhiali fissati permanentemente sulla sua testa. L'aspetto del mondo assomigliava a un'animazione con persone e cose mostrate come disegni a matita. Il terreno era perfettamente sistemato, con strade precisi, fiori con i cui punti taglienti era importante non scontrarsi per spaglio. Il danno al corpo sarebbe doloroso e forse pericoloso per la vita. Non toccare mai i fiori appariva sempre quando si afficcinava troppo. Gli edifici, sempre in condizioni eccezionali, erano sparsi qua e là. Solo case. Non c'era bisogno di avere negozi oppure uffici, perché tutto il cibo e le altre cose della vita arrivavano a casa con solo un pensiero da... 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 Per quanto riguardava le altre persone, era vietato parlare con loro ad alta voce. Infatti, l'abilità di parlare con la bocca era scomparsa per la maggior parte delle persone molti anni fa. Non era una caratteristica necessaria. Tutte le persone erano in grado di parlare con la mente, attraverso l'intelligenza artificiale globale. Bastava uno sguardo per avviare una connessione. Non c'era motivo di avvicinarsi e nessuno aveva molto da dire. Non come nei romanzi che avevo trovato nella profondità degli archivi, nei cui persone parlavano tutto il tempo di cose che erano difficili da capire. Le vite erano così piene di cosa da fare, fare, fare... Certo, era una fantasia. Nessuno aveva scritto un romanzo negli anni dopo l'Apocalisse. L'intelligenza artificiale globale sistemava tutto, dalla nascita alla morte. La vita non era difficile. Una persona la fissava. Una connessione si è aperta. Le parole... Le può aiutarmi? Strano. Aiuto con cosa? L'intelligenza... Lui è corso verso di me e ha allungato il braccio verso il mio corpo. Sono rimasta senza fiato, ma non ho sentito nulla. Poi è corso via. Meno male. Un corpo... Corpo... Corpo finto, corrotto... Succedeva di tanto in tanto. Non avrebbe mai dovuto avvicinarsi a lei. Era proibito. C'è un proibito. Connessione. No avrebbe mai dovuto avvicinarsi a lei. Di più jure. E' un proibito. E' un proibito. Grazie.